rubati 21 litri di metadone nella struttura del serte dell'ospedale di lavagna i ladri si sono introdotti nella palazzina dopo aver infranto il vetro di una finestra sono in corso anche le verifiche sul funzionamento del sistema di allarmi installato circa cinque anni fa in seguito ad un analogo tentativo di furto 21 litri di metadone custoditi nelle casse forti del serte dell'ospedale di lavagna sono stati rubati nel fine settimana la scoperta questa mattina da parte del personale dell'asl 4 che ha trovato infranto il vetro della finestra che dà sul retro dello stabile oltre alla grande quantità di metadone i ladri hanno rubato anche un tablet e un telefono cellulare le forze dell'ordine intervenute stanno visionando le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza al vaglio anche le posizioni di alcuni pazienti in cura e verifica sul funzionamento dell'allarme installato circa cinque anni fa dopo un analogo tentativo di effrazione i pazienti che avrebbero dovuto ricevere la terapia in data odiana sono stati indirizzati al secondo piano della struttura stessa e in alcuni casi alla sede di rapallo il servizio riprenderà come di consueto già nella giornata di domani a causa del vento dai quadranti settentrionali a oltre 80 chilometri orari è affondato la motopesca Maria Bruna mentre si trovava ormeggiato nel porto di Sestri Levante l'imbarcazione di 8 metri e 4 tonnellate di stazza non ha resistito alle onde sollevate dal vento e all'alba è affondata una vergogna da decenni chiediamo al comune di Sestri Levante di mettere in sicurezza il poto realizzando una diga sotto flutto per ripararci proprio dai venti di tramontana che sollevano onde di un metro all'interno della rada nessuno ha mai fatto nulla spiega Alessandro Cappelli presidente dell'associazione pescatori professionisti di Sestri Levante ci fanno pagare le concessioni migliaia di euro ma nessuno investe e così a ogni burrasca dobbiamo sperare di non perdere l'unica fonte di sostentamento non appena il tempo lo consentirà inizierà il recupero dello scafo e delle reti finite in mare che costituiscono pericolo per la navigazione sempre il forte vento di oggi ma in Fontana Buona ha scoperchiato il tetto di un hangar del campo di volo intitolato a Valerio Gloria Lanza che si trova a San Colombano Certenoli a Calvari sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il fabbricato e provvedere al ripristino con dei teli Il tubo della caldaia si è rotto e ha provocato l'allagamento del primo e del secondo piano della succursale di via Castagnola dell'istituto tecnico e professionale di Chiavari sono caduti sempre nella giornata di oggi anche diversi pannelli del controsoffetto Città metropolitana di Genova ha inviato i tecnici per riparare il danno mentre gli studenti di otto classi sono stati invitati dal preside a tornare a casa invece sono rimasti agibili il terzo e il quarto piano della succursale ma diversi studenti hanno preferito comunque non entrare Una rappresentante di istituto del Caboto però ha contattato la nostra redazione per precisare che la DAD in realtà non è stata attivata oggi ma che inizierà invece a essere attiva dalla giornata di domani I vigili del fuoco del distaccamento di Chiavari sono intervenuti a San Colombano Certenoli ieri sera attorno alle 20 nei pressi del campo sportivo di Calveri per l'incendio di un tetto di una palazzina di due piani All'arrivo sul posto i due abitanti dell'abitazione erano già stati messi in salvo da un pompiere libero da servizio L'incendio aveva già interessato tutta la copertura di circa 100 metri quadrati e i vigili del fuoco hanno provveduto a limitare i danni L'abitazione al momento risulta non agibile Ricorso in appello nel processo per la morte di Roberta Ripeto la quarantenne di Chiavari cui fu asportato un neomaligno nel centro anidra di Borzonasca senza altre cure specifiche E la sorella della vittima Rita Ripeto a far sapere che sono state depositate le motivazioni della sentenza di primo grado e dunque verrà ora preparato il ricorso in corte d'appello e la famiglia Ripeto rimane certa che la giustizia proseguirà inevitabile il suo corso Tre mesi fa l'ex santone del centro olistico della Valle Sturla Paolo Bendinelli e il medico Paolo Oneda sono stati condannati a tre anni e quattro mesi per omicidio colposo Il giudice ha disposto anche una provisionale di 20.000 euro ciascuno per i familiari di Ripeto con il resto del risarcimento da liquidare in sede civile Assolta Paola Dora, la psicologa Il sostituto procuratore aveva chiesto condanne di 16 e 14 anni ipotizzando a carico dei due il reato di omicidio volontario Bendinelli in primo grado è stato assolto dall'accusa di circonvenzione di incapace Il progetto del collegamento tra la Fontana Buona e la A12 presentato da Società Autostrade per l'Italia si sta pian piano sgretolando Giovedì scorso il MITE ha pubblicato una richiesta corposa di integrazioni a seguito delle attività di analisi e valutazione della documentazione tecnica presentata dai vari soggetti interessati tra cui il Comitato No Tunnel Addio lo è il portavoce del Comitato Andrea Carannante che afferma di aver ottenuto una prima vittoria Sulla cantierizzazione il MITE indica di approfondire l'analisi dell'impatto che avrebbero i cantieri sul carico viabilistico della dorsale di collegamento Santa Maria del Campo-Casella Autostradale già allo stato odierno congestionato oltre i normali livelli di tollerabilità dice Carannante dal punto di vista della biodiversità si sottolinea che le indagini naturalistiche effettuate da autostrade hanno gravi lacune omettendo anche dati di dominio pubblico le integrazioni richieste dovranno essere fornite entro 20 giorni dalla data di protocollo la strada per la redazione dell'opera conclude Carannante e dunque in salita Jaguar Land Rover entra per la prima volta a far parte del portafoglio clienti della Ilex la multinazionale giapponese che ha lo stabilimento a San Piero di Cane a Chiaveri in seguito ad un accordo sancito Ilex e Jaguar intraprenderanno un percorso di progettazione che si concluderà con l'avvio della produzione degli alzacristalli se questa acquisizione è ancora la fase iniziale tre nuovi progetti stanno arrivando in produzione in queste settimane riguardano Iveco Daily, Maserati Gran Cabrio e Jet Anvager con l'entrata a pieno regime di queste commesse lo stabilimento di San Piero di Cane prevede un aumento del 20% della produzione di alzacristalli